Bancarotta ex Sad Plastic Blizza Santatto la finanza arresta due titolari nascosti 13 milioni Team scelte aziendali e guerra con i sindacati Teramo ripartiti i lavori allo svincolo della gammarana dell'8-0 Parco Gransasso Laga D'Alfonso non piace ciapanna e chiede la sostituzione al ministro e per lo sport calcio nel mercato del Teramo sempre più vicina la mezzala De Risio Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte apriamo con la cronaca il nostro telegiornale passano per il nucleo industriale di Sant'Atto di Teramo perquisizione e sequestri nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Firenze sul fallimento della ex Sad Plastic l'azienda che produceva abbigliamento antinfortunistico in manette due fratelli proprietari e un loro ex dipendente bosniaco con le accuse di bancarotta transnazionale da 13 milioni e mezzo di euro il servizio coinvolge anche la zona industriale di Teramo e la ex Sad Plastic di Sant'Atto l'inchiesta con cui la Guardia di Finanza del nucleo di Polizia Tributaria di Firenze ha smascherato la spogliazione di beni dipendenti e finanziamenti per oltre 13,5 milioni di euro di una società attraverso il passaggio ad altra ed arrestato i due fratelli imprenditori fornivesi proprietari della ditta teramana e un terzo in nazionalità bosniaca secondo l'indagine fiorentina i due fratelli d'accordo con il bosniaco avevano minuziosamente programmato il fallimento della loro società sottraendole completamente attrezzature merci dipendenti e finanziamenti trasferendoli presso la controllata bosniaca Sad Est le indagini per i due proprietari della nota azienda che produceva calzature antinfortunistiche e disantatto parlano di bancarotta fraudolenta trasnazionale infedeltà patrimoniale ricorso abusivo al credito e truffa in fase di sequestro beni e immobili per un valore di oltre 13 milioni di euro al momento solo uno dei due imprenditori forlivesi il più giovane è stato rintracciato al momento dell'arresto nella villa in provincia di Forlì l'uomo avrebbe cercato di fuggire e di nascondere dei soldi in parte nascondendoli nelle fioriere in parte gettandoli chiusi in un bauletto da moto oltre il muro della villa per una somma complessiva di 60 mila euro in corso anche perquisizioni nelle province di Roma Milano Forlì Ravenna e nel nucleo industriale di Sant'Atto il provvedimento nasce da una complessa attività investigativa coordinata dalla procura di Firenze e svolta dalle fiamme gialle fiorentine in seguito al fallimento della FCSRL operante nel campo della produzione di calzature e prodotti antinfortunistici che era subentrata alla ex Sad Plastic SRL che ha permesso spiego alla guardia di finanza di portare alla luce un sodalizio criminale che ha organizzato immaterialmente eseguito la spogliazione di tutti i beni aziendali della predetta società in danno dei creditori secondo gli inquirenti il fallimento era stato programmato nei dettagli l'indagine è scattata a Firenze anche se l'attività produttiva dell'azienda poi trasferita in Bosnia si svolgeva a Teramo e in provincia di Forlì perché circa un anno prima del fallimento i due fratelli avevano spostato la sede legale a Firenze le campane di 37 comuni hanno suonato contemporaneamente alle 7.52 in ricordo delle oltre 30.000 vittime a 100 anni dal sisma che raggiunse l'undicesimo grado della Scala Mercalli che colpì la Marsica ma anche il Riatino e il Frusinate quel 13 gennaio del 1915 le foto fanno riferimento proprio all'epoca mai più 1915 e 2009 il centenario del sisma della Marsica che fece oltre 30.000 morti e il terremoto dell'Aquila con 309 vittime rappresentano una lezione per il presente e per il futuro questo quanto espresso dalle autorità la commemorazione celebrata al Memorial alle pendici del Monte Salviano ad Avezzano celebrazioni che hanno aperto ufficialmente la commemorazione dei 100 anni del sisma a Marsicano che colpì 37 comuni del territorio tra i presenti il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio il presidente del comitato d'onore per il centenario Gianni Letta oltre ai sindaci della Marsica il primo cittadino dell'Aquila Massimo Cialente altra tappa delle commemorazioni di oggi la presentazione del francobollo e dell'annullo filatelico da parte di Poste S.P.A. il francobollo è diviso in due nella parte alta è raffigurata la chiesa di San Bartolomeo prima del terremoto simbolo di Avezzano mentre nella parte bassa in grigio vengono rappresentate le macerie della città alle 17 di oggi messa solenne in commemorazione della cattedrale di Avezzano presieduta dal vescovo della diocesi dei Marsi Pietro Santoro e concelebrata dagli arcivescovi e dai vescovi dell'Abruzzo e del Molise di Ascoli Piceno di Rieti e di Sora La cronaca ancora era ubriaco alla guida della sua Smart aveva un tasso alcolico pari a 2,28 grammi per litro e nei pressi di una rotonda a Sant'Egidio la vibrata ha perso il controllo dell'utilitaria e si è capovolto restando gravemente ferito un 32enne di Sant'Egidio adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sant'Omer lo schianto in piena notte erano le 3 del lunedì è stato avvertito da alcuni cittadini che hanno chiamato la sala operativa della polizia stradale di Teramo sul posto è intervenuto una pattuglia del distaccamento di Giulianova insieme al 118 ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Notaresco hanno arrestato per lesioni personali e resistenza pubblica ufficiale Alberto Di Crescenzo 52enne del posto l'uomo si trovava nella propria abitazione quando per futili motivi è nata una discussione familiare presto sfociata nelle botte infatti l'uomo ha iniziato a picchiare la moglie coetanea e il figlio 28enne la donna temendo il peggio è riuscita ad avvisare i carabinieri della stazione di Notaresco che sono subito intervenuti la Team non può fare quello che vuole altrimenti la denunciamo per comportamento antisindacale è quello che sostiene Amedeo Marcattili segretario provinciale della CGL Funzione Pubblica che insieme ai responsabili della FIT CISL e della FIADEL ha chiesto un incontro al prefetto di Teramo per affrontare le questioni relative alla situazione organizzativa della Teramo Ambiente S.P.A. sentiamo La CGL Funzione Pubblica insieme agli altri sindacati vuol vederci chiaro sulla Team ma infatti ha scritto al prefetto per un incontro Sì insieme a CISL e FIADEL abbiamo chiesto che il prefetto convi con un tavolo di trattativa con la Teramo Ambiente non ci convincono alcune cose ci sono problematiche annose per quanto riguarda il personale ma soprattutto non ci convince che almeno alcuni rumors che si sentono sembra che si voglia stravolgere il piano organizzativo dell'azienda che si voglia fare un altro pianto organica non si capisce chi deve andare a fare che cosa senza una reale condivisione o quantomeno con le organizzazioni sindacali o una trattativa con le organizzazioni sindacali cosa prevista dal contratto per cui la TEAM deve stare molto attenta alle cose che fa altrimenti noi non la denunceremo per attività anti-sindacale perché comunque alcune questioni che riguardano i lavoratori deve essere contrattata con le organizzazioni sindacali questo diremo al prefetto quando ci convogherà dopo sei mesi di pausa riprendono i lavori dello svincolo dell'8-0 della Gammarana a Teramo l'assessore comunale Cozzi ha chiarito i motivi del ritardo durato sei mesi dall'annuncio reso dal sindaco Brucchi sulle ruspe imminenti alla vigilia del voto imputando i ritardi al maltempo ma anche a un lavoro di concertazione con il Globo la società Globo interessato dai lavori nell'ambito della riqualificazione dell'area ex Adone il servizio dopo una lunga pausa di riflessione sui lavori dello svincolo dell'8-0 della Gammarana apparsi più come l'ultimo asso elettorale nella manica del sindaco che alla vigilia del voto aveva parlato di ruspe imminenti qualcosa sembra finalmente sbloccarsi le ultime presenze di ruspe e tecnici in cantiere si erano viste a fine luglio per riavviare un iter più volte esaltato negli ultimi anni ma ad accoglierli avevano trovato la protesta del proprietario dei terreni il signor Umberto Ricci che aveva messo i suoi trattori di traverso per impedire l'accesso ai mezzi comunali la questione spropri non è affatto risolta visto che si andrà avanti con tutta probabilità con una causa civile intanto però è arrivato l'atteso sblocco del cantiere dopo dieci anni di pasticci burocratici ieri l'assessore all'urbanistica Mario Cozzi ha incontrato la ditta chiamata a eseguire i lavori che da questa mattina inizierà a tracciare la segnaletica a terra per evidenziare gli ingressi al cantiere sulla viabilità esistente questa mattina sono state effettuate anche le verifiche tecniche per scongiurare la presenza degli ordini bellici con i metal detector l'assessore Cozzi ha tuttavia voluto precisare che l'attesa non è dovuta ai ritardi sull'iter ma ad accorgimenti e maggiore attenzione ai passaggi procedurali che l'amministrazione ha voluto seguire per evitare ulteriori intoppi prima di partire abbiamo dovuto siglare una convenzione con strada dei parchi e ANAS per disciplinare le proprietà e le competenze sulla manutenzione in corrispendenza delle intersezioni dello svincolo ha detto Cozzi questo poiché la rotonda che costituisce lo snodo di tutta la viabilità si interseca proprio sul tracciato già esistente dell'8-0 ecco perché si sono venute a creare delle nuove disponibilità catastali che andavano distinte tra i soggetti coinvolti poi ci sono stati noti problemi del maltempo che hanno allungato i tempi Cozzi ha inoltre precisato che i tempi che l'amministrazione si è presa per attendere la via delle ruspe sono servite anche a evitare contenziosi con il Globo interessato a quel tratto di viabilità per via dell'accordo sulla riqualificazione dell'area exadone e dell'arretramento della stazione anche nella convenzione che stipuleremo con il Globo ha dichiarato l'assessore dovevamo definire bene la viabilità per evitare tappi e garantire lo snellimento del traffico al nostro partner con il quale siamo pronti a firmare lo schema di convenzione dal notaio Restiamo a Teramo la prossima settimana verranno aggiudicati i lavori per la rotonda che nascerà alla fine del ponte San Ferdinando per eliminare gli impianti semaforici all'incrocio con via Fonte Regina e via Le Crispi al vaglio dei tecnici la data di inizio lavori per evitare congestionamenti di traffico in concomitanza dell'uscita da scuola dei ragazzi della D'Alessandro il servizio Chiuso il capitolo fallimentare della rotondina alla fine di circonvallazione Ragusa adesso si lavora una rotonda più grande certamente più impattante quella che nascerà alla fine di ponte San Ferdinando nell'intersezione con via Le Crispi e via Fonte Regina per un importo complessivo di 330 mila euro la nuova rotonda è funzionale all'eliminazione degli impianti semaforici a quell'incrocio che una volta concluso lo svincolo dell'8-0 della Gammarana sarà appesantito anche dallo sbocco del traffico derivante da quell'innesto il 22 gennaio ci sarà la giudicazione dei lavori alla ditta che dovrà realizzare la rotonda ma l'assessore alla viabilità Giorgio Di Giovangiacomo sta valutando se dare il via concretamente ai lavori a giugno in modo da aspettare la pausa didattica della scuola media ad Alessandro oppure a fine mese quando valuterà l'impatto della parizzata che verrà installata alla fine del ponte per gli interventi di allargamento della sede stradale in modo da agevolare gli spazi di manovra i lavori più impattanti ha rassicurato l'assessore verranno comunque seguiti nelle ore notturne e come da progetto si concluderanno nel giro di tre mesi Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso pare proprio non abbia gradito la nomina di Graziano Ciapanna nel direttivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ed ha espresso il suo dissenso con una lettera al ministro Gianluca Galletti in cui ne chiede la sostituzione sentiamo Il presidente della regione Luciano D'Alfonso pare non aver gradito la nomina di Graziano Ciapanna consigliere comunale di Rocca Santa Maria e consigliere provinciale nel rinnovato dopo otto anni direttivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga Il governatore il 23 dicembre scorso con una lettera aveva scritto al ministro democratico e renziano di ferro Gianluca Galletti per contestare la designazione di Ciapanna nel merito dal punto di vista politico e anche di opportunità Al democratico D'Alfonso non andava giù che l'unico rappresentante per la regione fosse un esponente del centrodestra vicino sia alla lista civica di Mauro Di Dalmazio che al nuovo centrodestra di Paolo Tancredi Il secondo motivo di contestazione riguardava i titoli D'Alfonso proponeva al posto di Ciapanna Dino Mastrocola preside della facoltà di Agraria e vice-rettore dell'Università degli Studi di Teramo Infine D'Alfonso va al cuore del problema le ragioni di opportunità Attualmente Graziano Ciapanna è imputato per truffa frode e falso il PM ha formulato le accuse con una richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sull'appalto antincendio alla ASL di Teramo con la sua società privata coinvolta e con 657 mila euro sotto sequestro in attesa della definizione del procedimento proprio in virtù dell'inchiesta D'Alfonso aveva chiesto l'avvicendamento di Ciapanna che non c'è stata così come la nomina dell'avvocato Teramano Luigi Guerrieri anche lui di area PD come componente per completare il direttivo del parco posto al momento rimasto ancora vacante due nuovi dirigenti alla questura di Teramo si tratta della dottoressa Esther Fratello e del dottore Dino Petitti la prima campana di Napoli 44enne e il nuovo responsabile del commissariato di polizia di Atri laureata in giurisprudenza proviene dalla questura di Pescara dopo l'esperienza nella questura di Padova dove ha rivestito il ruolo di vice capo di gabinetto e portavoce del questore prende il posto del dottor Fedele Paolella trasferito alla questura pescarese il commissario capo Dino Petitti ortonese di 31 anni laureato in giurisprudenza a Teramo proviene dalla questura di Verona dove ha prestato servizio nel compartimento di polizia ferroviaria come responsabile del settore operativo della stazione di Porta Nuova a Teramo assume l'incarico di dirigente e immigrazione in sostituzione del vice questore aggiunto Floriana Gesmundo trasferita al compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di Bari l'assessore regionale Dino Pepe assessore all'agricoltura si è detto preoccupato per i riflessi negativi sugli investimenti che potrebbe avere l'agricoltura abruzzese con la legge di stabilità 2015 Pepe critica il governo e comunica che invierà una nota formale al ministro e alla conferenza Stato-Regioni il servizio l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe ha espresso profondo rammarico sui contenuti della legge di stabilità 2015 riferiti all'agricoltura facendo riferimento in particolare alla riduzione del carburante agricolo e alla controversa questione della tassazione IMU per i terreni agricoli l'eccessivo inasprimento fiscale sul carburante agevolato attuato dal governo ha rimarcato Pepe che dal 2013 ad oggi determinerà una riduzione complessiva dei quantitativi agevolati del 23% inevitabilmente determinerà un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole rischiando di scoraggiare gli investimenti per l'ammodernamento e quindi il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore primario individuati dalla regione Abruzzo con la nuova programmazione a ciò si aggiunge la trasposizione integrale dei contenuti del decreto legislativo 185 del 2014 all'interno della legge di stabilità che conferma il versamento dell'IMU per i terreni agricoli per l'annualità 2014 entro il 26 gennaio 2015 a tal proposito l'assessore Pepe auspica l'accoglimento del ricorso presentato delle delegazioni regionali ANCI di Umbria Abruzzo Liguria e Veneto in quanto i criteri applicativi in particolare quello riferito all'altitudine non rappresentano oggettivamente la redditività ed il valore di un determinato terreno agricolo l'assessore ha annunciato che invierà una nota formale al ministro e alla conferenza Stato-Regioni per invitare il governo nazionale ad una riflessione affinché le norme vengano modificate per evitare eccessive penalizzazioni per l'agricoltura abruzzese Ci spostiamo a Roseto nel corso delle ultime sedute la giunta comunale rosetana ha deliberato una serie di importanti interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno il territorio di Cologna a spiaggia in particolare sul lungomare della frazione verranno tagliate e sostituite le palme malate colpite dal punterolo rosso e saranno sistemate delle aiuole diversi lavori interesseranno poi la zona centrale del quartiere dove sarà risistemato il verde pubblico e puliti i canali a mare per queste operazioni la giunta rosetana guidata da Pavoni ha stanziato una somma di 18 mila euro come da programma poi nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di sistemazione della piazza centrale di Cologna a spiaggia si tratta del primo decisivo passo di un intervento globale di circa 700 mila euro che porterà anche alla realizzazione di una nuova palestra polivalente adiacente alla locale scuola che sarà assieme alla rinnovata piazza il fiore all'occhiello dell'intera frazione a tal proposito fa sapere il comune la delibera di giunta concernente i lavori sarà portato alla presa d'atto del consiglio comunale convocato per martedì prossimo 20 gennaio un'applicazione per i telefonini per non sbagliare a fare la raccolta differenziata pensata soprattutto per i turisti è una delle novità varate dal comune di Pineto in tema di ambiente sentiamo ci sarà perfino una app un'applicazione per gli smartphone dedicata soprattutto ai turisti che arrivano d'estate con tutte le informazioni per fare una raccolta differenziata senza errori è una delle novità in tema di ambiente presentate a Pineto dall'assessore Laura Traini e dal sindaco Robert Verrocchio oltre alla app un nuovo ecocalendario una nuova sezione del sito web del comune dedicata al mondo dell'ambiente e la consegna quartiere per quartiere del kit per la raccolta differenziata partirà mercoledì 14 la distribuzione del kit semestrale per la differenziata ed andrà avanti fino a domenica 18 nel kit che sarà consegnato da AM Consorzio oltre ad una fornitura di sei mesi di buste per organico carta e plastica sarà fornito anche il nuovo ecocalendario cittadino oltre alla consegna straordinaria delle buste rimarrà comunque aperto come di consueto l'ecosportello di AM Consorzio in via Garibaldi a Pineto per permettere a tutti di avere a disposizione il nuovo kit in più a disposizione dei cittadini anche una nuova sezione sul sito web del comune denominata Pineto Ambiente in cui ci saranno tutti i dati sul settore per offrire la massima trasparenza come nelle intenzioni degli amministratori pinetesi a breve come detto Pineto avrà a disposizione la sua applicazione per la raccolta differenziata a portata di smartphone ci saranno tutte le informazioni relative alla raccolta e all'eco calendario è un servizio che sarà pronto al più presto per essere al passo con i tempi e fornire un servizio all'altezza soprattutto ai turisti l'obiettivo per gli amministratori di Pineto è differenziare sempre di più al fine di poter risparmiare sulle tariffe e Pineto per questo argomento parte già da un'ottima base nel 2014 è stato registrato circa il 63% di raccolta differenziata e saranno sistemate entro la primavera le telecamere di sorveglianza sul territorio comunale di Pineto stiamo lavorando perché la videosorveglianza parte al più presto ha dichiarato l'assessore alla polizia municipale di Pineto Claudio Mongia dopo recenti episodi di vandalismo che si sono verificati appunto a Pineto il finanziamento c'è e ora dobbiamo procedere all'acquisto delle apparecchiature ha spiegato l'assessore a breve saranno individuati tutti i luoghi sensibili della città dove maggiore il rischio di vandalismo non solo attraverso il monitoraggio del territorio pinetese potranno essere controllati anche l'abbandono indiscriminato di rifiuti e altri reati contro la collettività l'associazione culturale Teramo Nostra che organizza ogni anno a Teramo il premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo piange la scomparsa di Francesco Rosi il grande regista è morto sabato scorso a Roma all'età di 92 anni Rosi ha realizzato i suoi più grandi capolavori proprio con Gianni Di Venanzo al suo fianco e solo la prematura scomparsa ad appena 46 anni nel 66 dell'autore Teramano ha interrotto un sodalizio artistico che avrebbe generato sicuramente altrettanti capolavori proprio in virtù di questo esclusivo rapporto professionale Rosi partecipò con grande entusiasmo ad una delle prime edizioni del premio Di Venanzo portando a Teramo la propria esperienza e i propri ricordi legati al grande direttore Teramano della fotografia cinematografica e adesso è arrivato il momento della rubrica di Giancarlo Falconi Carta Canta 64esima puntata di Carta Canta avete visto le immagini ieri del guado di Carapollo quello a disposizione della Teramo Ambiente che abbiamo pagato tutti quanti noi con le tasse avete visto le immagini di Teleponte al telegiornale fantastico c'era una ruspa una ruspa adibita al passaggio dei mezzi della Teramo Ambiente il nuovo codice della strada il nuovo codice di sicurezza penso che la polizia stradale sarà molto interessata vero? immaginate passa il mezzo della Teramo Ambiente scende l'operaio prende le chiavi della ruspa sposta la ruspa passa l'operaio con il camion riscende e rimette la ruspa a posto bravi soluzione ideale massimo della sicurezza al di là della cartellonistica che manca sulla pressione idraulica sul peso che può reggere il guado che vi ricordo che in altre parti d'Italia vengono sequestrati però noi invece di fare un ponte facciamo il guado di Carapollo meraviglioso continueremo e ci ritorneremo su questo fatto del guado di Carapollo sui sensori di piena sulle sbarre e sulla ruspa la famosissima ruspa torniamo a parlare del termo ambiente stiamo quasi terminando vi ricordate percolato affidamento diretto non si può fare però c'è subappalto dell'affidamento diretto non si può fare però è stato fatto affidamento diretto per il verde pubblico non si può fare ma c'è subappalto per l'affidamento diretto del verde pubblico non si può fare però c'è ora parliamo dei servizi cimiteriali fantastici i cimiteri serviti sono cimitero urbano Caprafico Castagneto Cavuccio Forcella Garrano Miano Poggiocono Putignano Rapino una squadra Rocciano Rupo Sant'Atto San Nicolò Valle San Giovanni Varano questo fu un affidamento con delibera di giunta c'era Gianni Chiodi fu votata anche dal centro-sinistra fantastici non si può fare però è stato fatto domandina domandella il dirigente che paga le fatture in arrivo dalla Teramo Ambiente come può giustificare questo tipo di pagamento senza una convenzione perché la convenzione come dicono in comune c'è però non è stata firmata quindi non esiste come si può giustificare il dirigente come giustifica queste fatture soprattutto esiste un funzionario un organo qualcosa al comune di Teramo che va a controllare i servizi della Teramo Ambiente ci sono questi verbali cioè se la Teramo Ambiente dice questo mese io ho spazzato tot cimiteria abbiamo pulito in tot zone ci sono i verbali di controllo c'è un organo che va a controllare il lavoro della Teramo Ambiente a cui sono stati affidati illegitivamente i servizi esiste? siamo sicuri? vorrei leggere questi verbali e vorrei parlare con questo dirigente che paga le fatture come si fa a pagare questo tipo di fatture? ma in fondo a Teramo non succede mai nulla carta canta previsioni per oggi in Abruzzo giornata caratterizzata principalmente da cielo sereno su gran parte del territorio regionale inserate nella notte sereno sulle zone interne e sui rilievi sereno sulle zone marittime temperatura insensibile aumento massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 15 e 18 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli sud occidentali mare calmo in provincia di Teramo dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno temperature in aumento massime comprese tra 11 e 14 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 12 e 15 gradi sulle coste venti assenti o deboli orientali mare calmo arro la Cominciamo dal calcio di Lega Pro. Il Teramo è sempre attivo sul mercato per reperire una mezzala capace di garantire alla squadra il definitivo salto di qualità. A tal proposito, nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Carlo Derisio, il 24enne di proprietà del Benevento, ma attualmente in prestito al Martina, e in pole position nelle preferenze del DS Biancorosso Marcello Di Giuseppe. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe decollare definitivamente. Nel frattempo, questo pomeriggio, i giocatori riprenderanno ad allenarsi in vista della complicata trasferta di Grosseto in programma domenica pomeriggio. In Toscana tornerà a disposizione Diachite, che ha scontato il turno di squalifica. A proposito del Grosseto, prossimo avversario del Teramo, il Grosseto è esonerato ufficialmente Pasquale Padalino. Il tecnico pugliese ha pagato a caro prezzo la sconfitta patita domenica scorsa al Garilli contro la propria Cenza. Al suo posto dovrebbe arrivare Paolo Stringara, a rischio anche la posizione di Vincenzo Minguzzi, DS Maremmano ed ex dirigente del Teramo di qualche anno fa. Queste le designazioni arbitrali per i match in programma nel prossimo weekend. Grosseto-Teramo sarà diretta dall'arbitro Andrea Tardino di Milano, l'Aquila Ascoli da Niccolò Baroni di Firenze. Scendiamo in Serie D. In occasione della partita Giulia Nova-Samba e Nelettese in programma domenica prossima allo Stadio Fadini, la società del Presidente Esposito ha indetto la giornata giallorossa. Per l'occasione non saranno validi né abbonamenti né accrediti questi prezzi dei tagliandi. Tribuna centrale 25 euro, tribuna laterale 15 euro, ridotto 5 euro. In curva ovest il prezzo del biglietto è di 7 euro, in curva ospiti 10 euro. Potranno assistere alla gara soltanto 375 tifosi della Samba. La società rosso-blu aveva avanzato una richiesta di mille biglietti, ma l'acquistura di Teramo non ha autorizzato l'ampliamento del settore distinti. E questo perché lo Stadio Fadini è considerato uno degli stadi più a rischio di tutta Italia. Scendiamo adesso in promozione. Quello di domenica scorsa è stato un turno favorevole al Morro d'Oro, che vincendo lo scontro diretto di Ponte Umano si è portato in testa la classifica del Girone A. Poche novità invece nel Girone B. Le prime quattro infatti sono riuscite a fare tutte bottino pieno. Con questo servizio facciamo il punto sul campionato. Questo weekend nel campionato di promozione si è giocato alla prima di ritorno. Un turno favorevole al Morro d'Oro, che è tornato al comando del Girone A. I morresi si sono aggiudicati il big batch di giornate, spugnando con autorità il terreno di gioco dell'ex capolista Ponte Vomano. 3-0 il finale in favore dei biancorossi, che si sono imposti grazie alle reti di Barlafante, Pella Nera e Colle Vecchio. In virtù di questo blitz esterno, gli uomini di mister De Eugenio sono saliti a quota 40, scavalcando lo stesso Ponte Vomano che adesso insegue a meno uno. In zona playoff, bene il Santomero, che nell'ultimo turno ha superato il San Gregorio 2-0, ma bene anche il Cerchio, che ha conquistato la sua prima vittoria di quest'anno, battendo il fanalino di codo a Balsorano. Anche in questo caso, la partita è terminata con un secco 2-0. Il derby è stato deciso dalle reti siglate, una per tempo, da Daniele Di Girolamo e Mascitti. Tra le terramane, da rimarcare i colpi esterni di Fontanella e Controguerra, gli Etriani hanno sbancato il difficile campo di Notaresco, con un gol nel finale dell'ex di turno Francesco Colancecco. Il Controguerra, invece, è passato sul campo del Poggio Barisciano, 2-0. Decisive le reti siglate nei primi minuti di gioco da Dazzi, con un calcio di rigore molto contestato, e da Stefano Pietrucci, direttamente sul calcio di punizione. Nel girone A c'è stato un ribaltone in vetta. Poche novità, invece, nel girone B, dove tutte le grandi hanno fatto bottino pieno. La Folgore San Buceto ha battuto il Fara San Martino, 4-0, con tripletta dell'ex Bucceroni. Tripletta anche per Mattia Mainella, che è stato decisivo nel 3-2 della sua Val di Sangro, sul campo del Goriano Sicoli. Bene anche il Passo Cordone, che ha superato il Delfino Flacco Porto, 2-0, firmato Sabatini e Cocco. Il poker di vittoria delle prime quattro in classifica è stato poi completato dalla Virtus Ortona, che nell'anticipo del sabato ha battuto il Silvi per 2-1. Vittoria dei gialloblu, maturata ancora una volta in rimonta. Dopo l'iniziale vantaggio ospite, siglato da Landucci, ci ha pensato il senegalese Ibra Ndiaglia a ribaltare il punteggio e regalare ai propri compagni tre punti molto importanti in chiave play-off. In basso, invece, l'atteso scontro salvezza tra Scafa e Lauretum è terminato con la vittoria di quest'ultimi, 1-0. Partita molto nervosa, ci sono stati cinque espulsi, tre nel Lauretum e due nello Scafa. Scafa, che adesso è ultimo in classifica, visto che Treville ha raccolto il suo secondo pareggio consecutivo, 0-0, sul campo del River Casale 65. E chiudiamo con il basket. Derby d'Abruzzo ancora amaro per la Mecca Energy Roseto contro la Proger Chieti. I biancazzurri hanno rimediato la quarta sconfitta nelle ultime quattro gare giocate al cospetto dei Teatini. Al Palamagetti di Roseto è finita 57-75. Vediamo. Il derby d'Abruzzo tra Mecca Energy Roseto e Proger Chieti è andato alle furie rosse Teatine, che hanno dominato in lungo e largo la sfida con gli Sharks. Al termine del match è stato il risultato a far capire l'andamento dell'incontro, 57-75 in favore degli ospiti. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, tra i 1.100 e gli spettatori, i biancazzurri non sono riusciti a trionfare nel derby. Il team di coach Trullo ha pagato una bruttissima percentuale al tiro, 21-58 dal campo e 5-24 da 3. Roseto che si è presentato alla palla a due con Pitts, Jackson, Moreno, Giannalizze e Brian. La risposta del Chieti è arrivata con Monaldi, Parermo, Sollazzo, Sergio e Ancellotti. Nei primi minuti del match ha regnato l'equilibrio e i canestri sono arrivati soltanto dalla lunga distanza. Il massimo vantaggio degli squali è stato sull'11-8 ma i quattro punti consecutivi di Ancellotti hanno rimesso le furie davanti fino a farle allungare sull'11-16. Il primo quarto infatti si è chiuso sul 14-16. All'inizio della seconda frazione gli ospiti sono partiti subito forte arrivando fino al 20-29 ma poi Moreno e Pizze hanno riportato gli Sharks in partita, 29-32. La Proger ha firmato successivamente un parziale di 0-4 che ha portato le due squadre negli spogliatoi sul 33-38. Al rientro sul parquet i padroni di casa hanno subito infilato un parziale di 4-0 che li ha fatti tornare sul meno uno. Nonostante alcuni minuti di gioco caratterizzati da diversi errori al tiro, i biancorossi sono riusciti a risalire a più 6 fino ad allungare sul 42-52. Da quel momento Roseto è uscito fuori dal match. Il vantaggio degli ospiti è aumentato nel finale della terza frazione, 48-61. Nell'ultimo quarto i biancazzurri si sono sforzati per cercare di raddrizzare una partita completamente storta. I due liberi di Pizze hanno fatto rientrare i rosetani a meno 10 ma a dare la mazzata finale ci ha pensato Shaffold con la tripa del più 15 biancorosso. Il canestro ha spezzato le gambe ai ragazzi di Trullo che hanno chiuso il derby sul punteggio di 57-75. Bene è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando all'appuntamento con la seconda edizione del nostro telegiornale, questa sera alle 19.15 sempre in diretta. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.